Bene, oggi vediamo di analizzare il moto di un oggetto, un pallone da basket, e di applicare, questo è un po' come abbiamo fatto la volta scorsa parlando del sassolino che cade verticalmente in situazione della borsa peso, di applicargli la legge di conservazione dell'energia meccanica, cioè l'energia cinetica più l'energia potenziale. Il nostro corpo in caduta era un pallone da basket, i primati sono qua, vediamo per esempio il primo, è abbastanza buono perché la palla è nello sfondo bianco, si dovrebbe riuscire a vedere abbastanza bene, il secondo tentativo sia lo sfondo, il quadro elettrico potrebbe dare qualche problema alla traccia dell'immagine. Cominciamo con la prima, quindi andiamo su, il tracker, il filmato funge da sistema per registrare la legge oraria perché ogni fotogramma è dalla posizione dell'oggetto, sappiamo la temporizzazione dei fotogrammi, 60 ogni secondo, quindi tra il primo e il secondo passa un sessantesimo di secondo e tracciando in successione il computer riesce a costruire la legge oraria. Se abbiamo la legge oraria, cioè se sappiamo posizione e tempo, possiamo calcolare tutta una serie di grandezze fisiche tra cui anche l'energia potenziale e cinetica. andiamo ad acquisire il video, la porta, facciamo così, facciamo così qua, è un banale proprio in colla, ecco, qualche volta la messa a fuoco non è perfetta, quindi questo attracca da un po' fastidio ma non è un problema. Allora, qui la prima cosa da fare è selezionare la parte di film che ci interessa perché finché il pallone è nelle mie mani, il suo moto ci importa poco. Quindi andiamo col tasto play, facciamo avanzare l'immagine fino a che il pallone non si stacca, ecco, più o meno, ecco, questo è distante l'uomo, comincia a volare da solo, il fotogramma numero 64, fino a quando non cade per terra, ecco, più o meno a questo punto, dal 64 al 122. Con questa icona selezioniamo i fotogrammi che ci interessano, lo start frame, cioè il fotogramma iniziale è il 64, meno al 122, come avevo detto, ecco, qui avete anche l'FPS, il frame rate, 60 frame a seconda, ok. Dopodiché ci serve informare il computer di qual è la scala dell'immagine, perché il computer di suo non lo sa e per questo utilizziamo l'asta metrica che ho fatto per mettere nell'immagine, ok. Diciamo al computer che questa distanza vale un metro, qui calcolerà tutte le altre in base a quella, funge da unità di misura, da scala. Per far questo andiamo sulla seconda icona, come la cosa usate in sequenza, 1, 2, 3 e 4. La seconda, nuovo, un nastro di calibrazione. Diciamo un po' per spiazzarlo al meglio. Ecco, prendiamo un estremo, in questa posizione circa, e l'altro estremo, nell'altro. Non sarà perfetto, ci sarà un fattore di proiezione, ma questo è il meglio che possiamo fare. Questo è il lungo un metro, quindi 1,0. Questo è il lungo uno, ok. Togliamo questo. Dopodiché ci serve un sistema di riferimento, un sistema cartesiano, che associ le coordinate alla posizione della palla. Per esempio, possiamo mettere l'origine nel punto B, più in basso. Eccolo qua. Lo mettiamo qua sotto. Ok. Grosso moto. E poi andiamo, tornando indietro, verifichiamo che il moto della palla sia, sia l'asse verticale, perché la palla viaggia lungo l'asse dell'enisola. Bene. Andiamo al fotogramma iniziale, questo possiamo toglierlo adesso. Andiamo a tracciare il pallone. Abbiamo un punto di massa, lo chiamo massa A. Qui vedete che appaiono la legge oraria, Xt, quello che sforgambieremo in Y, perché la X non ci interessa, ci interessa la lezione verticale. E qui nella tabella con i dati rilevati dall'analisi dei vari fotogrammi. Quindi andiamo, massa A, autotraccia, possiamo dire, il consiglio di farlo da solo, se l'immagine è ben definita e ben contrastata soprattutto. Allora, maiuscolo, control, il puntatore diventa un tondino, un mirino, punto sulla palla, l'area rettangolare larga è l'area di ricerca, l'allargo un pochetto, e qui la circolare interna è l'immagine che lui cerca di identificare, io cerco di mettersi dentro tutto la sagoma del pallone, la sagoma russa, arancionica. Ok? Potrebbe bastare. Poi gli dico, mostrivi la Y, non la X, e poi gli dico, cerca. Lui va a tracciare quell'immagine in tutti i fotogrammi. La segue mentre sale. Vedete la legge oraria della Y in funzione del tempo. Che cosa dovrà venire fuori in questo riquadro? Che tipo di curva? Qual è il moto del pallone? Una parabola. E l'accelerazione del moto è l'accelerazione di gravità. Come si cerca di ritornare indietro, poi abbiamo il vertice della parabola, il punto di massima quota, e torna giù. Ok? Passiamolo a finire. Qui, man mano che va avanti si sposta questo cursore, quando arriva al triangolino nero secondo, si ferma perché ha esaurito i fotogrammi che vi ho detto di considerare. ecco fatto. Finito, andiamo a chiudere. Porto in evidenza questo, gli dico, chiudi. Qui abbiamo la legge oraria in grafico e la legge oraria in tabella. Il tempo, la coordinata X, la coordinata Y. Andiamo ad analizzare la regge oraria della Y. Culsante destro, analizza. Il grafico viene sfumato. Lui, il software, automaticamente lo unisce i puntini con dei segmenti, a me questo non interessa. Questo lo tolgo. Ho pure i punti. Queste sono delle misure. Il computer confrontando la scala dell'immagine che gli ho dato, il sistema di assi cartesiani che gli ho dato, mi dice qual è l'ordinata, la Y, ai vari istanti durante il moto del pallone. Adesso gli dico, analizza, confrontandola, Carl Fitz, significa confronta con una curva, con una parabola. Vedete che la parabola qua, se non si vede tanto, è sopra il punto lì. Sono tutti disposti quasi, perfettamente con una parabola. Ma questo cosa significa? Se la legge oraria è una parabola, significa che il moto è un moto di tipo uniformemente accelerato. Le leggi del moto uniformemente accelerato, qui sotto c'è l'equazione, qui c'è Y, A grande per T alla seconda, più B grande per T, più C. Il coefficiente di T alla seconda, ha un significato fisico importante, è un mezzo dell'accelerazione. Ricordate, un mezzo, G, T alla seconda, eccetera, eccetera. Quindi A, che qui vede come meno 5.38, è la metà di G. Quindi nel nostro esperimento, con la scala che gli abbiamo dato, probabilmente andrà avampiata un pochetto, G risulta essere il doppio di questo numero, quindi 10,8, 10,70 qualcosa. Per avere una misura invece diretta, più diretta di G, vado ad analizzare non tanto la legge oraria, che è sempre una cosa costruita da fare, ma la legge della velocità. Perché se il moto è un frammento accelerato, il coefficiente di T nella legge di V è proprio l'accelerazione. Quindi chiudo questo, cambio la scelta della quantità, e vado su V, e qui dovrò ottenere una retta, rimetto su analizza, tolgo questa che non mi serve, la velocità, l'analizza non con una parabola, ma con una retta. Qui mi dice, la tua retta ha un coefficiente angolare di meno 10,7. Conferma quanto misurato prima. Quindi il nostro G, in questo esperimento, in queste condizioni in cui stiamo operando, vale, il valore di riferimento, sarebbe 9,81 metri al secondo quadrato. Per la nostra immagine, per la nostra scala, se è molto vicino, è 10,7 metri al secondo quadrato. Perché la nostra scala dell'immagine probabilmente non è perfetta, poi c'è un profondo di proiezione. Comunque ci teniamo buono questo, 10,7. Detto questo, il focus di oggi è sull'energia. Allora, un'energia, il software la calcolo automaticamente. Perché? Perché è un'energia che è indipendente da tutte le forme di forze in gioco, è un'energia cinetica. Qualunque sia la forza con cui abbiamo a che fare, l'energia cinetica è sempre un mezzo mv alla seconda. Invece le energie potenziali cambiano a seconda del tipo di forza. Quindi, se io vado a selezionare questo, cioè la grandezza da graficare, in fondo trovo k, energia cinetica già fatta, un mezzo mv quadro. Ma questo non mi basta. E se la vado a graficare, cosa mi darà? Mi darà qualcosa di... di che tipo? v va come una retta, v quadro andrà come una... parabola. Se è lineare, la funzione quadratica è una parabola. Ok? Ed è sempre positiva, nota bene. Perché è massa, m, positivo, v quadro, positivo. D'accordo? Non mi basta, che non è l'unica energia in gioco, c'è anche l'energia potenziale. Quindi vado a dire al software, a calcoli anche quest'altra grandezza fisica, che definirò l'energia potenziale. Nel nostro caso è m, g, y. Perché la quota è y. quindi vado sempre su la posizione della coordinata e vado in fondo, c'è un riquadro che ci definisci. Con definisci riesco a creare un'altra grandezza fisica, quella che voglio. Basta che sia costruita a partire da questa. Quindi vado su definisci e mi dice la tua massa è m. Lasciamo m uguale a 1, non cambia poco, perché comunque tutto è proporzionale a m. Invece quello che mi interessa mettere, perché il computer non lo sa, è g. Nell'energia potenziale c'è m, g e x. E la nostra g era 10,7. Quindi vado su aggiungi, parametro, lo chiamiamo g piccolo, e dico il mio g piccolo vale 10,7. Detto questo, vado su funzione dei dati, il quadro dopo, e dico aggiungi, che cosa? Chiamiamola E, P, energia potenziale. Ma posso usare qualsiasi scrittura, eh? E poi a destra metto l'espressione, cioè come la calcolo. m, asterisco che sta per per, g, asterisco x, no? m, g, x. Se mi scrive in azzurrino vuol dire che ho scritto correttamente. Se, per esempio, lo scrivo prima di definire g, me la metto in rosso e dice guarda che hai sbagliato qualcosa. Oltre all'energia potenziale ci interessa anche quella totale, energia cinetica più potenziale. Quindi andiamo a aggiungere un'altra grandezza, E, T, e questa la calcolo come K grande, K minuscola, energia cinetica, dall'inglese kinetic, che comincia con la K, più l'energia potenziale, E, P. Anche questa l'ha accettata. Chiudo. adesso se riclicco qui ritrovo anche E, P ed E, K ed E, T. K più l'ha definita. Quindi vado sull'ultima e visualizziamo l'energia potenziale. Sarà la stessa di Y, L, G, Y. L'energia potenziale e Y sono direttamente proporzionali allo stesso tipo di grafico, non è una novità. ma se vado sull'energia totale, usatelo, vedete che per buona parte del moto rimane abbastanza costante. Poi qui c'è adesso qualche problema, c'è una variazione minima di circa una unità, quindi una variazione del 10%, ma per buona parte del moto rimane costante. Questo perché? Perché micro variazioni nella posizione, nell'individuazione dell'immagine possono produrre effetti su Y e soprattutto su V. Quindi altra non è un minimo la stima dell'energia. Se andiamo ad analizzare in dettaglio il grafico, analizza, vedete che se lo confronto con qualcos'altro la scala, se zoom solo questo, qui la variazione è su un certo peso. Se invece ci metto dentro anche lo zero, il comportamento è quello che mi aspetto, cioè una funzione costante. Togliamo quello che non ci interessa che era da questa inizio, eccola qua, selezioniamo solo questo periodo del moto e in questo periodo la parte se mettiamo così legata alla punta verticale quando la velocità era abbastanza bassa quindi il software era facilità di seguire l'oggetto, l'energia totale è molto ragionevolmente costante. una cosa che avrei voluto mostrare ma con il pallone non si poteva fare perché è un po' sgonfio e non si presta a questo ma lo possiamo fare un'altra volta anzi spero aveva modo di farlo se io lasciamo rimbalzare la palla mi sa se facciamo così vediamo se riesco a trovare il filmato se ho già qua dello stesso pallone che rimbalza da qualche parte lo devo avverlo in un'altra in un'altra che si vede secondo voi sulla sarò voglio rimbalzare la palla prego cioè l'energia diminuisce nel senso che la la palla è ancora che si è stessa certo ma è parabile e quindi ho due grafici grafici con l'energia totale ho due eletti orizzontali ma una più alta dell'altra la prima è alta i primi tempi temporali la seconda è più bassa perché vediamo se riesco a mostrarlo io l'energia l'energia in perversa e anche se lo cerco non lo troverò mai più. Perché il primo rimbalzo è finché la palla vola c'è in elezione solo la forza gravitazionale. C'è in realtà la forza da dritto con l'aria ma pesa poco, è poco importante. Quando la palla arriva al suolo entra in gioco un'altra forma di energia. La palla è di gomma, è elastica, si contrae, si schiaccia. Questa è il suolo. La palla da sferica che era diventa un delissoide, si contrae. Ma non appena si rallenta, l'energia cinetica che ha acquisito, che è cadendo, viene assorbita, è poco come se fosse una molla, per deformare il pallone. Quando tutta l'energia viene spesa per la deformazione, la palla è in arresto, si è deformata, ma poi per la sua proprietà è di elasticità, tende a tornare nella forma che aveva prima, cioè a respandersi. Espandendosi, questa parte della palla preme verso il suolo. Terzo principio della dinamica, questa forza elastica agisce sulla palla e la fa tornare in alto, cioè diciamo rimbalza. Ma questo processo quindi coinvolge una forma di energia che non abbiamo considerato prima, che non è MGH, ma è un'energia potenziale elastica, che viene spesa prima, cioè viene acquisita durante la deformazione, poi viene restituita sotto forma cinetica quando la palla si espande. Ma questo processo non è efficiente al 100%. Una parte dell'energia meccanica totale che aveva la palla quando tocca il suolo non viene recuperata. Perché? Perché va a rimane sotto un'altra forma, forma di energia interna, o meglio ancora di energia termica. La palla si scalda, deformandosi si scalda, per attriti interni. Questa parte di energia non torna più sotto la forma meccanica, rimane sotto la forma termica e quindi la palla riparte, sì, una certa dose di energia, ma che non è quella che aveva quando ha toccato il suolo. Quindi dà una certa quantità di energia totale che si mantiene costante, il rimbalzo assorbe energia che non restituisce completamente, quindi la palla si riparte, ma ha un'energia totale minore e ho i due grafici con le due energie diverse. Sarebbe bello se riuscisse a mostrarvelo. Vediamo. Ok, ce lo dovremmo fare. Ok, ce lo dovremmo fare. Vediamo se ce lo dovremmo fare. Usiamo questo. Questo. Ok, qui ci si. No, qui ci è già la narizia. No. No, non c'è rimbalzo, niente, ovviamente qua non riuscire ad una nuova trovo. Non riuscire ad una nuova trovo, niente, non riuscire ad una nuova trovo. Ora, riassumendo, mettiamo in grafico il tempo e l'energia totale, l'energia si mantiene costante mentre la palla è in volo, poi c'è rimbalzo e l'energia totale diminuisce. L'energia cinetica ha una funzione che è una parabola con la concavità verso l'alto perché va come v quadro, è sempre positiva. L'energia potenziale va come x, perché è proporzionale a y. La loro somma è costante durante il moto. A dire la verità, per sapereci durante il moto c'è appunto l'azione della forza viscosa dell'aria che la frena ma ha poco tempo di agire quindi riporta via poca energia. E' molto più importante, più rilevante a livello energetico la collisione col suolo. Questa storia è molto più energia. Come se io prendessi, fate conto, una molla, la lascio cadere, si comprime quando troppa il suolo, si riespande e risale, ma l'energia cinetica acquisita nella compressione non viene totalmente restituita. Lo sarebbe se fosse una molla ideale. Il pallone ripartirebbe alla stessa quota se fosse perfettamente elastico. Il nostro che era anche più sgonfio è, meno facilità ha di ritornare la colla. Comunque, tutto sommato, direi che se andiamo a considerare quello che abbiamo ottenuto, molto velocemente e per quanto, in modo anche un po' approssimativo, ma diciamo che durante questa fase del moto l'energia è rimasta costante, che è quella in cui riesce a tracciare il merito, che è questa parte quella in cui la palla è più lenta. Prego. Tutto chiaro? Domande? Quanto voleva l'energia? Beh, se il pallone fosse stato, la definizione dell'energia si passava su una m pari a 1 di 1 kg, il pallone in realtà era 600 grammi. Se fosse stato di 1 kg si è passati 22 joule. La scala verticale è di 22 joule, sì. Per avere l'energia esatta basta fare 22 per 0,6. E avremo l'energia totale del pallone. D'accordo? No, ci fermiamo qua.